Il coraggio e la determinazione del Barletta, la presunzione e la reazione tardiva del Fasano, pronostico completamente ribaltato sul sintetico del Manzichi Apolin senza pubblico sugli spalti in uno degli incroci più attesi della prima giornata di ritorno. L'esordio col botto dal nuovo anno e dei biancorossi di Franco 5 è scesi in campo in maglia verde che battono 2-1 il quotato rivale, uno dei più accreditati per la vittoria finale del campionato, collezionano il quarto risultato utile consecutivo e conquistano tre punti molto pesanti. In chiave salvezza, brusco rallentamento invece per gli ospiti che tornano a conoscere l'amarezza della sconfitta, la seconda in questa eccellenza, mettendo fine a una serie positiva che durava da nove partite. La differenza di classifica non si nota affatto durante i 90 minuti. Il Barletta studia a fondo nel primo quarto di gara l'avversario più intraprendente in avio e quando ha la possibilità di colpire non se la fa sfuggire. E' da poco cominciata la seconda parte della prima frazione quando un ispirato laboraggine pende la sua calcio di punizione per la testa di Berardi, abile ad insaccare alle spalle di L'Oliva il gol del vantaggio dei padroni di casa. Fassano sbiadito, diritto e in giornata no. Montaldi lotta ma non sa incidere, Corvino si illumina di intermittenza, difende con precisione ed abnegazione del Barletta, si affida alle ripartenze per far male al quotato avversario. Il risultato cambia ancora in chiusura di tempo. Pugliese atterra così in aria trotta lo stesso 11 bianco-rosso. Si presenta dal dischetto e non fallisce la trasformazione. Il raddoppio è servito e tutto sommato anche in maniera meritata. Duplice fischio, riposo e poi rientro dagli spogliatoi. I brindisini provano a partire con un puglio decisamente più intraprendente. La migliore chance capita a diritto. Prima del quarto dorama l'argentino fallisce da posizione invidiabile. Il classico gol dell'ex non sa guardare il Barletta. La Boragine, Milella e Berardi sanno fare le due fasi in mezzo al campo. Sani è sempre una spina nel fianco per gli ospiti. Ultimo quarto d'ora, ingenuità di Cristallo che falcia così de vita in aria. Per grosso di bari e rigore, Corvino calcia. Il giovane portiere dei padroni di casa però si riscatta alla grande respingendo la conclusione. La Boragine in seguito per rimediare ad un errore di un suo compagno di squadra si becca il cartellino rosso diretto ad una decina di minuti dal termine. Il Fasano spinge in superedà numerica e dimezza lo svantaggio nel finale con una soluzione incrociata dello stesso Corvino. Ci credono i brindisini, pericolosi più volte in pieno recupero ma i tentativi di Amato, Serri e Fumai non sortiscono agli effetti sperati. Niente assalto alla vetta dunque per gli uomini di Giuseppe La Terza che scivolano in quinta posizione. Vittoria pesantissima. In chiave salvezza dicevamo per il Barletta con dedica speciale e tutta per il giovane Sebastiano Ronzino colpito nei giorni scorsi da un grave lutto familiare.